Oltre 14 milioni di euro per finanziare interventi di viabilità edilizia scolastica su tutta la provincia dell'Aquila, opere che saranno appaltate entro la fine dell'anno, molte delle quali saranno riconsegnate entro il 2025. Lo ha stabilito il Consiglio Provinciale dell'Aquila con l'approvazione della terza nota di aggiornamento al DUP, il documento unico di programmazione nel corso della seduta preseduta dal presidente Angelo Caruso. Esprimo particolare soddisfazione al termine di questa seduta del Consiglio, detto Caruso, abbiamo impegnato una consistente somma per investimenti importanti nel campo delle edilizie scolastiche e della viabilità che andranno ad interessare l'intero territorio. Una variazione importante la definisce invece il Consigliere Provinciale Vincenzo Calvisi, condivisa da tutta la maggioranza. Tra gli interventi sono previsti importanti lavori sulle strade dell'area del cratere dell'Aquilano e per questo voglio ringraziare i consiglieri Sette e D'Angelo per l'impegno profuso. Si tratta di opere strategiche a lungo attese dai sindaci del territorio. A questi fondi si aggiunge anche la delibera CIPES che abbiamo recepito, che stanzia 40 milioni per l'edilizia pubblica della provincia dell'Aquila. Basti citare, aggiunge Calvisi, Palazzo Quinzi dell'Aquila, importantissima sede provinciale, che sarà di vita ad uffici, a cui si aggiunge anche un immobile in via Verdi, il proprietorato della Repubblica in via Strinella e un'altra sede in via Trecco. Solo queste quattro opere cubano 40 milioni di euro. Davvero una risposta forte, ha concluso Calvisi, per la città in termini di ricostruzione.